Ragazzi, buona giornata da Corridore Nato e Michi Croo, uno squarcio prima mattina alle 7 di San Benzano, il panorama. Bellissimo ragazzi, il weekend prossimo sono di nuovo qua, a vedere i graffiti, il museo delle macchine d'epoca e a vedere qualcosa che c'è di particolare a San Benzano. Vi consiglio di venirla a visitare, ragazzi, a Benzano ad Aosta, mi invito a farci un salto, ragazzi. Iscrivetevi al mio canale, Michi Croo, e lasciate un like al video, ragazzi, vi raccomando. Ciao ciao, buona giornata a tutti.